Due settimane fa, il mio segretario crociava la piazza e veniva una mamma col carrello, col bambino. Lui, un prete tenero, si avvicinò per venire al bambino. Era un cagnolino. Quindici giorni fa, l'audienza è mercoledì, io andavo a salutare e passai e arrivai una signora. Un cinquantenne più o meno, come me, più o meno. Saluto la signora e lei apre una borsa e dice, me lo benedici a mio bambino. Cagnolino, lì non ho avuto pazienza e ho sgridato la signora, tanti bambini hanno fame. E lei col cagnolino. Fratelli e sorelle, questo sono scene del presente, ma se le cose vanno così, sarà l'abitudine del futuro. Stiamo attenti. Stiamo attenti. Grazie.